Oggi a Piazzetta Pulita parliamo dell'area marina protetta dell'isola di Capri, ne parliamo con Nabil Pulita che fa parte del Circo Legambiente di Capri e del Consiglio Nazionale di Legambiente e con Paola Mazzina che è assessore con specifica delega all'area marina protetta di Capri. Nabil Pulita, iniziamo dal maschietto invece che dalla femminuccia, ci puoi raccontare una brevissima cronistoria che vi sarà qualche anno fa. L'area marina protetta è un argomento che si trascina da molto, da molto tempo e che finalmente ha un'imboccatura giusta secondo noi di legambiente. Si trascina perché è da varie legislature, in primis è un progetto molto antico, quello del parco marino dell'isola di Capri che fu presentato circa 20 anni fa, 30 anni fa, ma comunque per tirare abbastanza stretti si deve a una direttiva europea, quella di cercare attraverso delle aree di reperimento alcuni siti importanti nella nostra penisola italiana. Uno di questi siti è appunto l'isola di Capri, con le sue peculiarità, con la sua bellezza naturalistica, con la sua ricchezza naturalistica. Ecco, una di queste aree di reperimento per creare poi le aree marine fu fatta a Capri. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto all'epoca un decreto legge in cui si evidenziava che poteva nascere un'area marina protetta Punta Campanella e Capri, perché era un ecosistema abbastanza attaccato per l'epoca, stiamo parlando di circa 20-30 anni fa. Adesso le cose sono andate avanti, all'epoca l'allora sindaco fu contrario all'area marina protetta, era Costantino Federico il sindaco di cui stiamo parlando, e invece la Punta Campanella continuò l'iter amministrativo e arrivò ad istituire l'area marina protetta Punta Campanella. Quindi la Punta Campanella e l'area marina protetta lo sappiamo perché tutte le barche che ormeggiano vengono a Capri, non possono ormeggiare piratamente lungo la costa sorrentina e amalfitana, quindi vengono a Capri, abbiamo i problemi che sappiamo. Però appunto quell'area marina protetta fu istituita. Capri ne fu sguarnita, furono istituite altre durante gli anni, Ischia, poi è stato il tempo del Cilento, poi c'è stato chiaramente l'area marina protetta della Baia sommersa nel Golfo di Pozzuoli, poi la Gaiola a Napoli e invece Capri è rimasta sguarnita, continuava a essere sguarnita. Nel frattempo chiaramente le dinamiche economiche sono cambiate e quindi logicamente quel decreto di istituzione ha previsto solamente la penisola sorrentina. Noi siamo adesso, chiaramente dopo anni, siamo tornati ad avere un grosso bisogno di... Ma quando si riparla dell'area marina protetta di Capri? Si riparla con il sindacato di Cirolembo perché ci furono a suo tempo, quindi stiamo parlando di 10 anni fa, più di 10 anni fa, perché ci furono grossi problemi attorno al mare di Capri, noi ci ricordiamo l'inquinamento della Grotta Azzurra piuttosto che altri casi che erano abbastanza cocenti per noi, per la nostra pubblicità internazionale e quindi si decise di riavviare le cose. Questo riavvio però fu abbastanza lento perché bisognava riaggiornare tutti gli studi fatti che sono stati aggiornati e poi si è avuto un arresto, nel senso che si sono fatte le campagne elettorali, è salito il sindacato di Gianni De Martino, quale poi anche lui in campagna elettorale si indicava come una delle strategie, quella dell'area marina protetta, come strumento e poi non si è fatto, siamo nel 2014, poi si è fermato di nuovo l'iter, nel senso che non si è proseguito. Che poi invece nel 2015 vi riunite le varie situazioni per sollecitare una ripresa degli Giter? Sì, noi già in alcuni periodi nel sindacato ancora precedente, nell'amministrazione precedente noi come lega ambiente logicamente avevamo cercato di dare una mano in questo processo perché ci crediamo moltissimo e nel 2015 non vedendo l'amministrazione attivarsi alle nostre sollecitazioni abbiamo chiamato insieme ad altri, c'era in quel periodo che è tuttora presidente il Capri Excellence, l'associazione, la Federalberghi con Sergio Cargiulo, Riccardo Esposito, c'erano le associazioni culturali che ci affiancavano su questo LASCOM e ci riunimmo nel 2015 in forma abbastanza allargata per fare un documento, ci riunimmo tante associazioni, senza mettere, lo indicammo proprio a priori, senza mettere né cappelli sopra queste riunioni né tantomeno designare un capo, eravamo tutte associazioni che si riunivano appunto per un preciso obiettivo, quello di sollecitare e il ministero da una parte e l'amministrazione dall'altra per continuare l'iter di istituzione dell'area marina protetta. In quell'occasione firmammo un documento tutti quanti, non appunto senza una formula, proprio come associazioni che chiedono alla pubblica amministrazione un moto in avanti. Perfetto, siamo nel 2015, esatto. Nel 2015. Cosa succede subito con questo documento? Purtroppo questo documento non ha fortuna, questo può capitare, diciamo per chi ha un po' di esperienza anche nel mondo associativo a volte non si ha risposta e in quel caso questo è avvento, non c'è stato, se non diciamo verbalmente un pacche sulle spalle, insomma non vi preoccupateci pensiamo noi, però ufficialmente non si attivò niente né tantomeno avemmo la soddisfazione che questo iter proseguisse, tanto è vero che abbiamo dovuto sollecitare anche come singola associazione come le Gambiette abbiamo sollecitato più volte per sapere, anche per conoscere che cosa avveniva diciamo in qualche incontro che c'è stato al Ministero. Ma per cui quando avviene una vera ripresa di quest'iter? Lo abbiamo unicamente, concretamente diciamo lo abbiamo in questo periodo, noi abbiamo avuto una grossa sollecitazione, l'abbiamo fatta insieme a Capri Excellence, Legambiente e Capri Excellence, facemmo un incontro pubblico nel 2017 proprio per sollecitare l'allora sindaco che era Gianni De Martini e anche Anna Capri che era molto più disposta verso questa soluzione per continuare, tant'è vero che anche l'allora assessore Massimo Coppola era molto attivo in questo caso, però il comune di Capri non si sviluppò nessun documento essenziale per continuare. Prima di far prendere la parola a Paola Mazzina, una cosa volevo sapere, quando vi siete primiti qui la prima volta nel 2015, le varie associazioni e poi comunque in questo percorso per quanto lento, lentissimo, arrivando fino ad oggi, tra le altre cose siamo a pochissime ore dai sei mesi della vittoria della nuova amministrazione che rappresenta anche Paola Mazzina qui e avete mai eletto un coordinatore di tutte le sue azioni? Cioè vi siete mai identificati in una frigula apicale che poteva fare la timoniere? Assolutamente, ma questo neanche negli ultimi mesi? Assolutamente, ho letto di alcuni documenti di un coordinamento? No, noi non abbiamo aderito a nessun coordinamento, ma tant'è vero che diciamo se si indica quello che anche sui giornali o sui social media è comparso, non è in effetti un coordinamento, ma piuttosto delle persone che magari hanno anche positivamente vogliono cercare, io spero, perché poi... La prova a essere un coordinamento è diverso l'aspetto proprio. Assolutamente, l'unica cosa che abbiamo pensato e che sta funzionando e che secondo noi è uno strumento giusto per Capri è quello del tavolo del mare, è uno strumento a disposizione delle associazioni che hanno interessi culturali, ambientali, anche di lavoro sul mare, sul tema del mare di Capri e questo tavolo del mare appunto ci vede tutti quanti insieme... Il tavolo del mare ha un coordinatore? No, diciamo è un tavolo orizzontale... L'ho attestato che si stesse su coordinamento... Ci devo anche dire perché ho letto alcune cose... Il tavolo del mare è un partenariato tra associazioni, cioè ognuno si siede con la sua chiaramente identità, però si discute di problematiche legate al mare, ci sono delle associazioni che sono molto importanti per Capri, Capriamoci, ci sono le associazioni ambientaliste, legambiente, mare vivo, ci sono i pescatori di Capri, ci sono tutta una serie di presenze che hanno a che fare con il tema del mare e questo secondo noi è molto positivo perché da lì può esserci un assunto, un riassunto delle nostre posizioni e può essere molto importante perché amministra sentire questo riassunto. Perfetto, ho letto innanzitutto applauso dire che ambiente all'intervento di Panamazzina di cui adesso parleremo. Panamazzina tra poche ore, pochissime ore, saranno sei mesi da quando sei consigliere comunale della nuova amministrazione comunale guidata a Marino Lembo e da cinque mesi per la nomina di assessore sei assessore che fa comunicare, hai una specifica delega che ha una grandissima responsabilità, cioè quella dell'area marina protetta e hai anche una grandissima fortuna che non hanno avuto gli ambientalisti anni fa, cioè che esiste una coscienza che dice oggi abbiamo bisogno del parco marino. Viene detto sia in senso ambientalista sia in senso anche commerciale, perché faccio l'esempio più banale, il gruppo motoscafisti attraverso Giuseppe Maggi Pinto mi ha sempre detto l'unico modo per salvare l'economia del mare di Capri è il parco marino, così non subiamo più tutte le barche che non possono entrare nel parco marino della penisola sorrentina. Mi permette questo direttore, noi dobbiamo essere coscienti e lo siamo in primis noi che diciamo abbiamo una coscienza ambientalista eccetera, ma siamo coscienti e dobbiamo essere coscienti tutti che il grosso risultato è che l'ecologia deve sposarsi con l'economia, se no non funziona, questo lo diceva a suo tempo Axel Langer, però insomma comunque è una cosa... Negli ambientalisti hanno sempre visto l'economia come una distorsione che c'era negli ultimi tanti... invece il tiro è stato corretto, ma è la strategia giusta per riuscire a far salire la qualità della vita delle persone. Però volevo che poi la mattina ci raccontasse di questo ITER da quando ha iniziato ad occuparsene come assessore. Benissimo. Intanto grazie per l'invito e per l'opportunità che mi è stata offerta oggi di venire appunto a condividere con voi questo percorso. Sì, sono quasi sei mesi che ha preso avvio questa amministrazione e il proposito diciamo dal quale siamo partiti è stato proprio quello di dire oggi Capri fa i conti con una realtà drammatica. Capri e soprattutto la sostenibilità che quest'isola sia a terra che a mare affronta sul piano praticamente dei grandi flussi e questo è il tema. Il tema dell'area marina protetta quindi è un tema strategico e noi abbiamo ritenuto sin dal primo momento che una politica responsabile dovesse sposare un tema capace di guardare al futuro. Nel senso che periodicamente capita a tutti di sentire, soprattutto nel periodo estivo quando maggiormente si presentano i problemi, di sentire gli sfoghi che da più parti provengono circa appunto l'uso indiscriminato del nostro territorio e gli afflussi appunto indiscriminati. Che strumenti può avere un ente locale? È chiaro che l'ente locale fa i conti con realtà sovraordinate a se stesse. Il tema dell'area marina protetta fa parte di questo dover fare i conti con altri soggetti. E quando dico questo a cosa faccio riferimento? Faccio riferimento al tema delle competenze, non per mettere le mani avanti e per deresponsabilizzarmi ma semplicemente per aver chiaro in mente innanzitutto a me stessa e a chi ci ascolta di quali sono i margini di azione che un amministratore comunale ha a disposizione. Perché questo? Perché sull'area marina protetta, dobbiamo dirlo chiaramente, la competenza non è dell'ente locale. E tuttavia l'ente locale subisce il prezzo più alto, quello sostanzialmente di vedere attaccato il proprio patrimonio ambientale. Come uscircene da questa situazione? Come amministrazione il sindaco Marino Lembo, condividendolo con tutto il resto dell'amministrazione e quindi con chi vi parla, ha ritenuto di dover dedicare un apposito assessorato all'istituzione dell'area marina protetta. Non per presunzione o per voglia di protagonismo, ma perché ormai è maturo in ciascuno di noi la consapevolezza che determinati meccanismi a livello sovracomunale intanto possono prendere avvio e forza solo se c'è un pungolo che viene dal territorio. È chiaro che tutto questo si porta dietro il prezzo della colpa. Qual è il prezzo della colpa? La colpa, ossia la consapevolezza che la decisione finale, non trattandosi di competenze imputabili all'ente comunale, quindi a chi vi parla in questo caso, siccome la decisione finale non è imputabile a noi, ma a chi sta sopra di noi, in questo caso il ministero, il prezzo della colpa dove sta? Nel rischio. Il rischio di dover rispondere di responsabilità altrui legate a che cosa? alla distrazione o alla mancata attenzione verso un tema del genere, verso la necessità appunto di dar vita all'area marina protetta dell'isola di Capri. L'azione che noi abbiamo voluto portare avanti si è mossa su più livelli. Primo appunto dare visibilità al tema attraverso l'istituzione di un'apposita delega, che si porta dietro appunto questo alto rischio di dover rispondere per quello che gli altri non fanno, non per quello che tu fai. Secondo però, dar forza alla voce dell'ente locale. Come si può dare forza alla voce dell'ente locale? Come si può scongiurare il rischio che l'ente locale e chi per esso, quindi la persona che in quel momento è preposta all'assessorato, non rimanga solo? Condividendo questo percorso in termini di partecipazione con tutti i soggetti economici e associazionistici presenti sul territorio. Io sono voluta partire personalmente da un dato di fatto, da una constatazione, da un riconoscimento e da un sentimento di riconoscenza nei confronti di quanti, e non lo dico adesso per piageria perché c'è Nabil qui davanti, ma quanti, anche attraverso Nabil, attraverso le loro testimonianze, penso come dicevamo prima all'ASCOM, alla Federalberghi, alla Capri Excellenza, a tutti gli amici che fanno parte anche delle diverse associazioni ambientalistiche, noi abbiamo voluto dare atto della loro testimonianza, del loro impegno, non per farlo nostro, ma per condividerlo insieme e rendere più forte la nostra azione. Azioni. Che cosa si può fare? Che cosa si deve fare? Noi avremmo potuto, come dire, muoverci attraverso avvalendoci, diciamo, di spot, di dichiarazioni di intenti, di piazzate, mettiamolo così, avvalendoci anche di una vetrina che chiaramente Capri ci offre, noi abbiamo una visibilità che certamente è di gran lunga superiore rispetto ad altre realtà. La tentazione, vi dico la sincera verità, quest'estate a vedere le condizioni in cui versava il nostro mare è stato fortissimo e ho dovuto forzare me stessa, nel senso che istintivamente, non dico una piazzata, ma una dichiarazione pubblica forte l'avrei fatta, però avrei corso il rischio di renderla inconcludente, di ottenere un risultato, diciamo, di visibilità, sta facendo qualcosa, ma di renderla inconcludente e probabilmente di non raggiungere, così come era nelle nostre intenzioni, immediatamente l'obiettivo. E l'obiettivo qual è? È quello di fare in modo che giuridicamente questa cosa si faccia, non in termini di dichiarazioni intenti, giuridicamente. Ragion per cui, anche talvolta un po' di mal di pancia che vengono un po' rappresentati, eccetera, me li sono fatti digerire, insomma. Le ho buttate giù e mi sono chiusa, in effetti, in religioso silenzio, concentrandomi per lavorare su questo obiettivo, cioè l'obiettivo, quello di passare dalle dichiarazioni d'intenti alle risposte giuridiche. In questo, ripeto, e non lo dico ancora per piageria, grazie anche alla forte collaborazione e il supporto che ho ricevuto dalle associazioni, da Nabil e da quanti appunto hanno creduto sin dal primo momento in questo obiettivo. Come tutti sanno, non l'ho stabilito io, non l'ho deciso io, lo strumento per eccellenza attraverso il quale poter procedere all'istituzionalizzazione dell'area marina protetta, a mio avviso è rappresentato, e all'avviso penso di qualsiasi persona di buon senso, è rappresentata dalla legge di bilancio. Perché la legge di bilancio è non un altro disegno di legge, è un'altra legge? Perché come tutti quanti sappiamo, per poter istituire un'area marina protetta ci vogliono i soldi. Senza soldi non si cantano messe. Bene. E se questo è vero e ci vogliono i soldi, gioco forza, lo strumento per eccellenza è la legge di bilancio. Legge di bilancio la cui sessione inizia adesso, non inizia a, diversamente dai nostri desideri, a giugno, luglio, agosto o settembre, inizia adesso. E quindi, sempre facendo, dandoci pizzichi sulla pancia, trattenendoci dal dover dare delle risposte, ci siamo chiusi. In religioso silenzio abbiamo atteso che questa sessione partisse. Ma, nell'attendere che questa sessione partisse, abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato per fare che cosa? Per dar vita ad un emendamento che potesse trovare cittadinanza all'interno della legge di bilancio. È chiaro, signori, io lo dico a me stessa e penso che sia chiaro a tutti, è una strada in salita. Nel senso che portare un emendamento in legge di bilancio significa, intanto, elaborare, intanto trovare persone disposte a presentarlo, ma prima ancora bisogna reperire i fondi. Le esperienze in giro ci sono state, tutte le aree marine protette istituite nel corso degli ultimi 15-20 anni, correggimi se sbaglio, sono spassate tutte per la legge di bilancio. E noi abbiamo pensato che fosse quello lo strumento per eccellenza di cui avvalerci. Ragion per cui, su due livelli abbiamo agito, su quello statale, e quindi in questo desidero veramente ringraziare l'amicizia che mi è stata riservata da mie ex colleghi in cui ho lavorato alla Camera dei Deputati. Perché dico questo? Perché precedentemente io ho fatto accenno alla carenza di competenza. Nel caso nostro, non avere competenze significa anche non avere uffici preposti alla predisposizione di questo tipo di attività. In virtù, mi sono mossa molto in solitudine con questo, in virtù, quasi col cappello in mano in effetti, sono andata a Roma, affinché qualcuno mi aiutasse a predisporre questo emendamento e a trovare le risorse per potergli dare la giusta copertura. Oggi l'emendamento 39.061, teso a dar vita e istituzionalizzare l'area marina di Verodetta per l'isola di Capri, figura tra i 4.500 emendamenti se non vado errato, che sono stati ammessi rispetto a quelli presentati al Senato. Porta la firma, porta la firma, sì. Da 7.000 si è passati a 4.500, insomma è il risultato importante. Questa iniziativa… Tra le altre cose i presentatori sono… Valeria Valente. I diputati di Campani. Sì, infatti due rilievi sono importanti. Primo è che l'emendamento figura tra le misure per il Sud. Quindi una cosa importante perché si lega, la nostra ragione diciamo di essere, la nostra collocazione naturalmente fa sì che questa istituzionalizzazione venga declinata nell'ambito delle misure pensate appositamente per il Sud. Secondo è che il parlamentare di riferimento che si è assunto alla paternità di questa cosa e ha fatto su alla nostra battaglia, la senatrice Valente, è la senatrice che rappresenta il nostro territorio, alla quale praticamente abbiamo chiesto concretamente di fare la sua parte a dimostrazione che come noi ci tiene anche lei alla salvaguardia del nostro ambiente. Oggi penso che la nostra parte in effetti l'abbiamo fatta e continueremo a farlo perché come dicevo poco fa la strada è in salita, quindi si tratta di percorrerla tutta quanta però monitorando perché il lavoro di aver presentato l'emendamento non finisce lì, adesso inizia la partita vera, è un risultato importante e non voglio essere autoreferenziale in questo, ma è importante esserne consapevoli, però ripeto la strada è in salita perché si troverà a fare i conti questo emendamento con tutta un'altra serie di emendamenti per i quali praticamente si dovrà ragionare sulle risorse a disposizione. Che risorse implica la produzione di questo emendamento? Sono risorse che riguardano un doppio profilo, il primo l'istituzionalizzazione, cioè istituzionalizzare un'area marina protetta costa, ma costa anche mantenerla e proprio sulla faccenda dei costi voglio ricordare l'iniziativa che si è tenuta nello scorso della ultima consigliatura, il 10 aprile del 2019, esponenti della pregressa amministrazione di Capri e di Anacapri, al Ministero dell'Ambiente con cui praticamente si sono rapportati nel riproporre il tema dell'area marina protetta, hanno ritenuto sostanzialmente di dichiarare la disponibilità a fare economicamente la propria parte, 200 mila euro, da far gravare sulla tassa di sbarco. Un po' come il cappotto di Napoleone, la tassa di sbarco. Sì, infatti sì, l'obiettivo che noi ci siamo dati è il seguente, non aumentare attualmente come tutti quanti sanno, la tassa di sbarco ammonta 2,50 euro. Aumentare anche di uno 0,10 come ci si sta cingendo a fare per finanziare l'area marina protetta è un qualcosa che necessita di una procedura. In questo sia Capri che Anacapri, qui voglio dare atto della stessa determinazione nel portare avanti questo impegno, siamo addivenuti alla decisione di aumentare la tassa di sbarco per il periodo strettamente necessario al raggiungimento dei 200 mila euro necessari per concorrere all'istituzione dell'area marina protetta. Chiusa questa parentesi... Chiusa questa parentesi di risolvere all'avventamento con cui i due comuni con la tassa di sbarco provvederanno a affrontare questa prima spesa. No, perché c'è bisogno sempre. L'area marina protetta deve essere istituita e perché ciò avvenga non è necessaria una legge dello Stato. E deve avere una copertura. Noi, come ento e locale, non siamo, come dicevo prima, soggetti competenti a dar vita un'area marina protetta perché diversamente sono convinta che altri prima di noi l'avrebbero già fatto. L'istituzione dell'area marina protetta passa attraverso una decisione dello Stato. Capri e Nana Capri in che cosa si inseriscono in questo percorso? Si inseriscono in un percorso non previsto dalla legge ma che è praticamente proposto da noi. Il tema di fondo è stato questo nella scorsa Consigliatura. Vogliamo anche noi fare la nostra parte. Si è fatto bene, si è fatto male? Non entro nel merito. Certamente c'è questo dato per il quale Capri e Nana Capri hanno dichiarato al Ministero di voler concorrere per 200.000 euro all'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri. Precedentemente non c'è l'area marina protetta che ha fatto una cosa del genere, però se lo si è ritenuto una strada praticabile, ben venga, purché la si faccia. Ora, dicevo, quindi i piani sono duplici. Da una parte c'è questo lavoro tutto locale per il quale si sta andando avanti, perché abbiamo dovuto limare alcune previsioni che erano state liquidate nella scorsa Consigliatura e dall'altra parte invece si sta agendo sul piano di quello che prescrive la legge, cioè che cosa la legge stabilisce. Per istituire l'area marina protetta cosa si deve fare? Deve intervenire una legge dello Stato. L'emendamento c'è e come scrivevo l'altro giorno anche al Ministero dell'Ambiente, adesso mi aspetto che cosa? Che noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Al Ministro Costa che ha dichiarato più volte pubblicamente, ma anche qui in una sua venuta a Capri, la piena disponibilità ad agire in questo senso, cioè a fare la sua parte e favorire l'istituzione dell'area Marina Protetta, al Ministro Costa mi rivolgo, ma a nome di Capri e degli abitanti dell'Isola di Capri, mi rivolgo dicendo adesso caro Ministro Costa fai pure tu la tua parte, la nostra l'abbiamo fatta e siamo sicuramente convinti che le nostre speranze sono ben riposte in una persona che saprà ben interpretare questa esigenza che Capri oggi ancora una volta rinnova. Aiutatici a non soffrire ancora di più di quanto stiamo già soffrendo. Come politico che rappresenti comunque tutta la comunità di Capri, perché ne sei assessore per questo specifico argomento dell'area Marina Protetta, sei fiduciosa sull'emendamento, sei pronta ad imboccarti le maniche se l'emendamento non andasse a buon fine? Allora, io non sono autoreferenziale, nel senso che a me non piace esprimere giudizi sul mio lavoro, lo rimetto agli altri la valutazione. Certamente sono consapevole di che cosa? Che un risultato importante che non ha precedenti nelle scorse consigliature è stato raggiunto, l'emendamento c'è, ma di questo non mi accontento e siccome sono sempre stata abituata a pretendere il massimo dagli altri ma innanzitutto da me stessa, so che la strada, perciò dico in salita, non per mettere le cosiddette mani avanti e dire vabbè se non va bene, ma perché so che la strada è ancora lunga e dobbiamo continuarla a praticare tutti quanti insieme, non da soli, perché nessuno quasi vuole mettere le medaglie in petto, qua l'obiettivo è uno solo, noi siamo di passaggio nella vita, lo siamo nella politica, però Capri resta e va salvaguardata. Questo è un treno importante e in questo mese che ci aspetta dovremo al massimo accelerare le nostre forze, per poter almeno essere in condizioni di non rimproverarci nulla, di non esserci risparmiati nel non fare quello che si doveva fare. Poi è chiaro, ripeto, che il giudizio, se si è fatto bene o si è fatto male, poi lo rimetto agli altri. Io spero di poter parlare sui risultati e questo forse è un piccolo risultato che abbiamo ottenuto nel giro di poche settimane. Io ho esattamente tre minuti e mezzo ancora e poi dobbiamo più le sovi, mi sono ammari a me, in caso si fa piacere a molti. Due cose vorrei capire, perché poi ci si pone tra la gente anche le domande e tutto. Come sono i rapporti? Parlo specificamente dell'area marina protetta, tra te che rappresenti il Comune di Capri e il Comune di Anacapri e a tempo stesso i rapporti, cioè il tuo percorso che stai facendo sull'area marina protetta è condiviso da tutta l'amministrazione comunale di Capresi Uniti? Sì, no, io su questo mi sento di rispondere con grande serenità. Intanto ti ringrazio dell'opportunità che mi dai di richiamare di nuovo appunto i miei omologhi di Anacapri e nello specifico desidero ringraziare il mio omologo per eccellenza che è Maurizio Lorusso, persona di grande responsabilità, di grande determinazione e a cui riconosco di essersi messa a disposizione per condividere insieme questo percorso comune. Per quanto riguarda Capri, anche su questo non ho da rappresentare nessuna riserva, nel senso che a me è stato dato un mandato a portare avanti appunto questo obiettivo e che so che è pienamente condiviso da tutta l'amministrazione e non ci sono motivi per non appunto aver fiducia in questa posizione. E quindi per rimanere in leader con un tipo di mandato del genere voglio chiedere a Nabil Pulita se avviene la stessa cosa con le altre associazioni, cioè se avete un unico intento, se c'è un dialogo di confronto importante, se c'è anche un dialogo anche con la gente, che poi il politico resta al comune e la situazione generalmente è quella che più interdisce anche con il cittadino comune e chiede ma a che stiamo? Ti posso rispondere seguendo un po' quello che ho indicato prima. Noi fino a questo punto abbiamo fatto innumerevoli riunioni con operatori del settore, con i motoscafisti ad esempio, con i pescatori amatoriali e di professione, con le persone che ci lavorano sul mare perché guardate, l'area marina protetta è un piano regolatore per capri, solo che è per il mare. Questa frase ce la rubiamo. E noi dobbiamo essere coscienti di questo proprio per in alcuni casi anche difenderci da una situazione ormai incontrollabile che ci sta attorno all'isola. Oltre questo sicuramente abbiamo dei buoni rapporti tra associazioni. Questo lo posso dire tranquillamente. E addirittura, oltre ai nostri soci che rappresentano una piccola fetta di cittadini, ma anche noto nelle riunioni che abbiamo fatto in anni ormai, tra i ragazzi, nelle scuole, ad esempio posso citare l'istituto Axelmunte dove abbiamo fatto alcune... io personalmente ho parlato di aree marina protette, che cosa sono, ai ragazzi, ma detto francamente, oggi come oggi, quasi la maggioranza delle persone sa che cos'è un'area marina protetta. Non è più come prima, come citavamo, dove eravamo sparuti, diciamo persone, poche persone che capivano qualche cosa, che volevano forse, ma però oggi c'è uno strumento che è la conoscenza, che anche internet ci ha accelerato nei processi di conoscenza. I ragazzi lo sanno assolutamente meglio quasi di noi che cos'è un'area marina protetta e a che serve. In più, devo dire un'altra cosa, c'è un altro aspetto che è molto molto positivo e che è quello che, diciamo, gli operatori economici ne sono coscienti e che sono anche i primi che di questo meccanismo possono trarre beneficio, tra virgolette. I tempi credo siano molto maturi, se non ora lanciare il coraggio, diciamo, il cuore oltre allo steccato, come si suol dire, non sarebbe, diciamo, altro tempo, se non ora. Teniamo presente, come diceva Paola prima, che noi abbiamo molti concorrenti, perché oggi avere un'area marina protetta in un posto turistico è ambito, quindi diciamo ci sono molte località che spingono per avere l'area marina protetta, quindi noi siamo in concorrenza con altre località addirittura. Cioè ci sono molti posti che ambiscono, molti posti turistici che ambiscono a diventare, ad avere delle aree marine protette, quindi logicamente ci sta una concorrenza molto forte, tant'è vero che abbiamo, ad esempio, la stessa, per dire, Lampedusa ha fatto, diciamo, carte false per avere un'area marina protetta in contrapposizione a quello che è un suo problema, che sono gli sbarchi dei migranti. Però sicuramente noi abbiamo delle forti concorrenze e sicuramente il nostro apporto anche come associazione, come Lega Ambiente è quella di premere, pressare anche a livello nazionale l'ingresso dell'isola di Capri come area marina protetta. Perfetto, chiudiamo questa prima trasmissione salutando Nabil Pugli Telecambiente, Paola Mazzini, Assessore all'area marina protetta, il Comune di Capri. Grazie. Grazie. Grazie.